E se gli ultimi trattori sono stati scaricati ai capannoni dei carri di Viale Piceno allora è segno che ci siamo. Il Carnevale di Fano è pronto a partire in tutti i sensi con la prima sfilata dei carri allegorici domenica 28 gennaio, poi 4 e 11 febbraio. Due agli appuntamenti previsti, al mattino alle ore 10 il Carnevale dei Bambini ad ingresso libero, mentre al pomeriggio alle 15 la sfilata delle maestranze lungo Viale Gramsci con il lancio degli oltre 200 quintali di Dolciumi e la sfilata notturna. 14 carri allegorici di prima e seconda categoria aprirà la parata a una grande scarpa rossa come segno al contrasto alla violenza sulle donne. Seguirà il carro dedicato al direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, ospite dell'evento, poi Jack in the Box, ovvero Pupazzo a Molla, opera dedicata alle maschere italiane che fanno parte del memorandum per il riconoscimento del patrimonio immateriale dell'UNESCO ed infine Ted Agelbrudet 2 La Vendetta, opera ispirata al piatto simbolo fanese il Brodetto e anche la Moretta. Di prima categoria invece aprirà come sempre il carro dedicato alla maschera ufficiale fanese, il Voulon, poi ho visto la I che bacia lui e il Mangiasogni. I restanti carri sono quelli già visti lo scorso anno mentre chiuderà il corteo la storica musica arabita. Intanto questo fine settimana sono previsti numerosi appuntamenti. Siamo veramente in dirittura d'arrivo e iniziamo oggi, cioè venerdì, con l'inaugurazione della mostra del grandissimo nostro artista Andrea Giomaro con la sua mostra Le Cose e ad Andrea ho chiesto ma perché hai intitolato la tua mostra Le Cose? Eh vabbè perché io faccio cose. Ah vabbè allora di fronte a questo mi sono arresa. Poi domani inauguriamo una mostra un po' particolare che ovviamente mi sta molto a cuore perché è la mostra delle mie gomme da cancellare, sempre alle 18 a Palazzo Bracci Pagani. Al Fano Center è allestita una mostra dedicata alla musica arabita per concludere il centenario di questa band strampalata e sabato mattina la musica arabita sarà al Fano Center per una per un po' di animazione diciamo così con i loro battanai. E poi arriviamo a domenica, domenica mattina con il carnevale dei bambini, poi alle ore 11 arriveranno, arriverà l'associazione Argos Forze di Polizia per rinnovare il nostro gemellaggio e in piazza faranno una lezione di legalità, una divertente lezione di legalità e senso civico. Vi ricordo che anche quest'anno abbiamo la lotteria del carnevale, il primo premio è una fantastica crociera per due persone, comprate i biglietti e poi la sera di martedì grasso saremo a Fano TV per l'estrazione. Per poi alle ore 15 iniziare il grande corso mascherato, il primo grande corso mascherato di questa edizione 2024, vi aspettiamo, siamo felici di accogliervi per questo grandissimo carnevale che anche con il tempo pare ci grazie. Vi ricordo anche che sabato tre in centro storico, dalle ore 16 ci sarà una sfilata di carri allegorici con mascherate, ovviamente carri di seconda categoria, mascherate, musica rabita per arrivare in piazza con gli Zebra 3 e fare festa fino a che avremo voglia.